La finanza onoraria al professor Walter Barberis è per noi veramente un motivo di onore e di orgoglio. Il conferimento del Consiglio Comunale del 27 giugno oggi viene coronato da questa cerimonia ufficiale con la consegna della chiave della città e della pergamena, proprio per riconoscere al professor Barberis quell'amore che ha sempre avuto per Cervo dagli anni 69, da quando ha cominciato a frequentare il nostro borgo e fino ad oggi per l'aiuto che ci ha sempre dato attraverso le sue competenze per promuovere la cultura a Cervo. E' a lui che dobbiamo, proprio con la nascita e l'appoggio di quello che è la manifestazione letteraria più importante che è il Cervo che strega e insieme a tutte le rassegne. Grazie a lui, presidente della casa editrice Einaudi, abbiamo avuto modo di avere contatti con gli scrittori, diciamo, importanti della contemporaneità letteraria. Quindi al professor Barberis è tutto il nostro, grazie per il suo riconoscimento.